Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Claudia Pandolfi ha portato a galla un evento molto particolare e tragico Rivela l'incidente incredibile ed il ricovero. Claudia Pandolfi è di sicuro una delle attrici con un grande talento capace di far immedesimare chiunque nella situazione in cui si trova Anche per lei, però, le cose non sono state sempre rose e fiori Al punto che, un giorno, è stata persino vittima di un terribile incidente Ma cosa è accaduto alla talentuosa attrice? Sul sito Roma Repubblica si può leggere della terribile storia che ha visto Claudia Pandolfi come protagonista L'attrice si trovava in Piazza Vescovio, luogo in cui cercava di trascorrere dei momenti in totale relax Nonostante le sue intenzioni, la donna si è accorta di essere seguita da un paparazzo che la stava fotografando senza il suo permesso Dopo aver discusso a lungo con il fotografo, è accaduto il peggio L'uomo è arrivato addirittura a spruzzare lo spray urticante negli occhi dell'attrice per riuscire a difendersi Tutto ciò è accaduto nel momento in cui, l'attrice, stava per tornare a casa sua Per caso si è accorta della presenza di una Nissan Micra al cui interno c'era un fotografo che stava cercando di rubare alcuni scatti della vita quotidiana della donna Il tragico racconto di Claudia Pandolfi.Claudia Pandolfi ha deciso così di prendere in mano la situazione, e di chiarire con il paparazzo Quella che doveva essere una semplice discussione si è trasformata in una vera e propria lite che ha portato il fotografo a mettere in moto la macchina, e ad allontanarsi velocemente L'uomo però sembra non essersi accorto che l'attrice era rimasta aggrappata allo sportello E così, proprio la Pandolfi, viene trascinata dall'auto cadendo poi rovinosamente sull'asfalto Molto probabilmente l'attrice non si era resa conto del fatto che la macchina fosse stata messa in moto, proprio perché in precedenza il fotografo le aveva buttato dello spray urticante negli occhi Immediati sono stati soccorsi per la donna, che l'hanno portata presso il policlinico Umberto I La diagnosi non ha lasciato alcun dubbio. Claudia Pandolfi aveva subito un trauma toracico provocato proprio dalla caduta Fortunatamente le condizioni della donna non sono risultate essere gravi, anche se addirittura si sono fratturate due costole Dopo poche ore dal suo intervento, l'attrice è finita anche sotto il ferri Così che i medici potessero intervenire sul corpo martoriato dall'incidente Non poteva non mancare l'intervento dei carabinieri che, dopo essersi accertati delle condizioni stabili di salute dell'attrice, hanno iniziato la ricerca del fotografo L'uomo però, dopo poche ore, ha deciso di costituirsi attraverso una telefonata in cui non è riuscito a trattenere nemmeno le lacrime L'uomo in questione è lui, Mauro Terranova già protagonista in passato di un evento simile Infatti molti ricordano il momento in cui il fotografo, insieme ad un altro collega, aveva persino aggredito Gigi D'Alessio Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video